Ciao a tutti, io sono Aurora Marchetti, disegnatrice del fumetto Chiamatemi Emanuele, edito da Astromica per la collana Bory Comic. Cos'è un fumetto? Un fumetto è un racconto attraverso le parole e le immagini. Ovviamente voi lo vedete così al lavoro finito, però c'è tutto un lavorone dietro da fare. Per esempio, innanzitutto si parte da una sceneggiatura, dove lo sceneggiatore manda alla disegnatrice o al disegnatore la sceneggiatura con come va impostata la tavola, le scritte, le espressioni dei personaggi e tutto. E qui poi la disegnatrice inizia poi a disegnare in base alle indicazioni della sceneggiatura. Per esempio, ogni fumettista ha un metodo diverso per disegnare e tutto. Io sono un'ibrida, mi considero un'ibrida, cioè nel senso disegno in parte su carta e in parte in digitale. Quindi inizio il disegno inizialmente su carta, con la matita, la gomma, il classico disegno su carta. Dopodiché scannerizzo il disegno e inizio ad inchiostrare e colorare in digitale. E poi ci applico i ballon, i ballon sarebbero le nuvolette dove vanno inseriti i discorsi, e poi i testi. E in questo periodo, diciamo, è un periodo molto difficile, non solo per l'Italia, ma proprio per tutto il mondo adesso. E la cosa migliore da fare è restare a casa, assolutamente restare a casa, per poter finalmente fuggire da questo incubo. Cosa potete fare? Ci sono tante cose belle da fare in casa, per esempio potete leggere un libro o un fumetto, potete giocare alla Playstation o all'Xbox, potete vedervi qualche serie TV, giocare con i vostri animali domestici, prendervi cura di loro, potete fare tante di quelle cose. E se volete potete anche disegnare. Io ho fatto un bel disegno per Borybook e l'ho inviato alle mail che trovate qua sotto. Che ne pensate di fare lo stesso anche voi? Volate con la fantasia!